Stamattina siamo a Capaccio Capoluogo e due dipendenti, ex dipendenti del comune, hanno scenato una protesta. Cosa è successo? Ci hanno detto che ci assumevano nel 31 con il precontratto e poi hanno assunto gli altri e noi siamo rimasti fuori e hanno assunto altre persone al nostro posto. E tu dove lavoravi? Con la Sele Calore, con la Tempor, cioè il comune. Quindi hai lavorato fino a quando? Fino al 31 di dicembre. E quindi adesso avevano detto che ti avrebbero riassunto? Abbiamo già il precontratto, già firmato con l'assunzione dal primo di aprile, però niente. Quindi che cosa è successo? Come hanno giustificato questo fatto che non ti hanno riassunto? Niente, ho parlato anche con il sindaco e ha detto che non c'era il bilancio, però hanno assunto altre persone alla fine. E stamattina cosa è successo? Mi hanno detto che siete venuti qui con una tannica di benzina? Sì, con le catene il mio amico e niente, ho lavorato a essere per un posto di lavoro perché comunque abbiamo bisogno. Qual è il tuo nome? Di dove sei? Di Spinazzo, Capaccio. Roberto. E te è la stessa problematica? Sì, è uguale come lui. Che ci hanno promesso il primo aprile ci prendevano a lavorare e fino adesso niente. E quanto è durata la protesta? Come mai poi avete deciso di desistere? No, sono venuti perché andiamo a fare delle denunce. Contro chi? Contro il comune? No, contro tutti. E qui abbiamo anche, che è venuto in rappresentanza dei lavoratori, il segretario. Provinciale dell'UGL. Allora, il discorso è questo. Io mi trovo qua stamattina perché sono stato chiamato da loro stamattina presto e mi hanno detto che stamattina si andavano a occupare il comune con la benzina e cose eccetera. Dopodiché, essendo una persona coscienziosa, sono corso qua e gli ho detto mi raccomando non fate sciocchezze, aspettiamo il sindaco, vediamo quello che dobbiamo fare. Sono stati chiamati i carabinieri, il sindaco, eccetera. E abbiamo fatto la discussione. Il discorso è questo. I signori qua sono stati addirittura minacciati da alcuni dirigenti del comune perché hanno delle problematiche che ci stanno sotto che poi andiamo a spiegare ai carabinieri di che cosa è, di questa situazione. Hanno fatto assunzione nuove nell'ultimo mese e questi due signori stavano fuori. Stamattina invece, dopo che hanno scenato tutta questa situazione, gli hanno promesso che le assumevano il 15 di maggio. Prima il primo aprile, poi il 15 di maggio. Hanno rinviato ulteriori perché dicono che non c'era il bilancio ancora fatto, approvato. Però nel frattempo hanno fatto altre assunzioni. Poi volevo dire un'altra cosa. Il comune di Capaccio ha creato questa società Sele Calore e ci sta bene. I dipendenti dove andiamo delle multiservizie sono dipendenti diretti della multiservizio. Invece solo in questo comune ho trovato che la multiservizio si appoggia a un'agenzia interinale. Tra le altre cose il comune ha agginato anche questo perché vogliono fare e sfruttare lo Stato. Per quale motivo? I precontratti vengono fatti, sono stati fatti attualmente da gennaio fino a primo aprile, poi sono stati assunti. Per quale motivo? Il motivo è questo, solo perché il comune dice noi sfruttiamo la disoccupazione e poi li riassumiamo. Ma solo su un colpo di persone? Su tutte le persone. Diciamo che questi precontratti che hanno fatto. Hanno fatto i precontratti e vanno a sfruttare la situazione della disoccupazione. Questa è una truffa legalizzata allo Stato. Adesso ci sono andate le scarpe strette perché siamo intervenuti noi dell'UGL. L'UGL non è compatibile con il comune di Capaccio perché non vogliono parlare con noi. E noi siamo qua adesso per fare questa protesta. Andiamo avanti, andiamo dai carabinieri e andiamo a fare tutte le nostre denunce. Poi dopo vediamo che cosa succede. Ma quanti sono gli operai che non sono stati poi riassunti oltre loro? Ultimamente sono solo questi due qua. Però hanno assunto persone nuove, una decina di persone nuove, nell'ultimo mese a posto di loro. In questo momento andiamo a fare la denuncia contro il comune. Siamo con l'amministratore della Sele Calore. Stamattina c'è stata questa protesta qui al comune di Capaccio. Sì, ho trovato due lavoratori istigati da un terzo, due ex lavoratori, istigati da un terzo a compiere un atto che secondo me sindacalmente non è corretto. Cioè quello di interrompere un pubblico servizio. Perché i signori hanno occupato la stanza dei tributi, che è una stanza di lavoro tra l'altro di back office, cioè aperto al pubblico, manifestando e chiedendo ragioni del loro stato di disoccupazione. Io ho voluto parlare con i lavoratori in questione, perché tra l'altro li conosco, sono due brave persone. Ho spiegato loro, e come loro ben sapevano, perché avevano partecipato a due assemblee precedenti, che la società ha applicato un principio di estrema democrazia sociale, che è quello lavorare tutti per lavorare meno. E mi spiego meglio, in seguito alle norme sulla spending review che hanno imposto ai comuni di spendere di meno, sia in materia di personale, anche quello diciamo delle società di partecipazione, sia proprio in termini di servizi, il comune ha dovuto ridurre l'impegno nei confronti della partecipata. La riduzione di questo impegno avrebbe comportato la necessità di ridurre la pianta organica e anche quello probabilmente di rendere meno efficienti i servizi. L'anno scorso io ho per ben due volte parlato con i lavoratori, spiegato che noi avremmo voluto applicare questo principio di grande democrazia e che pertanto non avremmo più avuto dei contratti a 12 mesi, ma avremmo avuto contratti a 9, a 6, a 4, a seconda praticamente dei servizi, con un criterio anche di turnazione, praticamente per quanto riguarda il lavoro, di modo tale che noi avremmo garantito a tutti il posto di lavoro e avremmo garantito all'ente la gestione dei servizi locali. Quindi per me è stata una meraviglia questa mattina, anche perché diciamo che è evidente il loro diritto al lavoro, ma di diritto al lavoro ce n'è tanto, nel senso che tutti hanno diritto a lavorare. Proprio per applicare questo criterio noi non abbiamo, diciamo, e questo l'avevo come dire partecipato, cioè ci sono state persone che sono state in disoccupazione dal 1 gennaio al 1 aprile, rinata la necessità di organizzare dei servizi affidati eccetera, li abbiamo di nuovo messo in occupazione e lavoreranno dal 1 aprile al 30 dicembre. C'erano stati lavoratori invece assunti il 1 gennaio che termineranno il 30 giugno, il 30 settembre, quindi contratti a 12 mesi non ce n'erano più. Questi due lavoratori, per i quali tra l'altro, voglio dire, adesso dovremo anche verificare, perché sì, io li conosco sicuramente, probabilmente erano persone che avrebbero lavorato nel periodo estivo. Dico questo perché veramente ho avuto una sorpresa negativa nel vederli qui questa mattina e protestare in quel modo. Io ammetto la protesta, credo che però dietro di questi ci sia una ispirazione che viene dall'esterno. Ripeto, stamattina era qui, gli impiegati del Comune hanno testimoniato che c'era uno che li conduceva, gli dicevano quello che dovevano fare. Non è corretto questo comportamento, io non mi sono mai negato e ripeto, questo criterio di turnazione tra i lavoratori l'avevo partecipato in ben due assemblee e se voglio dire il 98% dei lavoratori ha aderito e il 2% non ha aderito non so qual è il motivo né la ragione di questo comportamento, sinceramente. però ritengo che non era necessario arrivare ad una protesta così clamorosa pur rispettando il diritto al lavoro ma proprio perché, e tutti lo sanno, noi abbiamo applicato un principio di estrema correttezza che secondo me avrebbe garantito tutti. Ora hanno detto che, ci abbiamo parlato, hanno detto che avrebbero proceduto con una denuncia contro il Comune perché addirittura dicevano di essere stati minacciati da qualche funzionario. Non lo so, sinceramente non lo so, non credo da me personalmente, sono stati qua, abbiamo parlato, insomma li conosco. Adesso la soluzione quale sarà? Sono parole molto grosse queste, sinceramente insomma non mi appartengono, ma non credo che appartengono nemmeno lo stile di questa amministrazione, molto sinceramente. se poi loro ritengono di dover fare delle denunce le facciano, chiaramente anche noi ci cauteleremo perché insomma, ripeto, c'è stato un comportamento, non dei due però, ma di questa terza persona che ha istigato a questo, diciamo, che credo sia un reato penale, interrompere un pubblico servizio, interrompere un ufficio che credo che sia un reato penale e penso che qualche ed uno ne debba rispondere. C'è il tempo anche delle responsabilità in questo Paese e credo che sia venuto anche di verificare questa responsabilità, ripeto, soprattutto di chi ha istigato a questo comportamento. Io ho profondo rispetto per le due persone, poi loro fanno la loro strada, fanno quello che vogliono, i miei rapporti con loro sono stati sempre molto corretti, tra l'altro mediati da una società di somministrazione del personale. Io non ho mai avuto colloquio diretto con loro, se non ordini di servizio e altre cose, quindi è stato un rapporto corretto da parte mia ma anche da parte loro nei miei confronti, assolutamente, estremo rispetto, estrema collaborazione, quindi non ho nulla da dire. Per altre cose sono problemi che non mi riguardano, sinceramente. E c'è la possibilità di riassunzione per loro? Eh beh, se si mettono su una strada di denuncia nei confronti della società, insomma, mi sembra che non sia, voglio dire, una strada favorevole ad una ipotesi di riassunzione. Tra l'altro, lo ripeto, il criterio è quello che è la società che seleziona. Però, insomma, sinceramente, credo che se è una strada quella della denuncia, della minaccia, della cosa, mi sembra incompatibile con una posizione di lavoro poi all'interno della società. Sinceramente, credo non sia possibile, insomma. Sous-titrage Société Radio-Canada